Eccoci qui ragazzi alle scelte della prossima campagna che dovrebbe essere quella di Chris Guardate c'è Chris, Jack, Ada Ma ovviamente facciamo prima quella di Chris, andiamo in ordine Vediamo cosa ci riserva quella di Chris, Redfield Così, lasciamo agente, difficoltà Pierce Ah dai mi tengo Chris Offline Guardate questa stronzata, munizione infinita, ma che difficoltà c'è con le munizioni infinite, dai Rimani sparando e basta Non c'è un minimo di difficoltà, non devi raccogliere niente, tanto le munizioni infinite, la vita devi raccogliere Le erbe, gli spray medicinali, basta, non devi raccogliere altro Con l'altro c'ero Non è dura trovare una buona bistecca Non è come a casa Fammi il pieno Ne hai avuto abbastanza Senti dolcezza Sei qui per servire da bere e farti guardare Perciò vedi di chiudere il becco E tu vedi di andartene dal mio bar Spacagli la bottiglia in testa Non ho dovuto andare Ehi, damma va si esamole la daudete La signora ti ha chiesto di andare Non avrei mai pensato di trovare Chris Redfield ridotto così in questa tua paglia E tu che diavolo sei? Pierce Pierce Nevans Mai sentito E questo? Hai mai sentito? Che cos'è? Tu non ricordi proprio me, vero? Bioterrorismo E io? Non puoi sfuggire al passato Chris Non importa dove vai o cosa fai Che sei? Cos'è questo? Ok Non ti ricordi di me? Di loro invece? Guarda Ho detto guarda Erano i tuoi uomini Morti per obbedire ai tuoi ordini Devi ricordare Lo devi a loro Chris Se ora te ne vai Allora sarà stato tutto inutile Basta Diavolo Sei mesi a darti la caccia E questo è quello che trovo Biese Già Tu appartieni a questo Tutti ti aspettano Tutti Ti porteremo indietro capitano In un modo o nell'altro Non posso sempre scappare Devo affrontare la verità E le mie responsabilità È l'unico modo per ricordare L'unico modo per riavere la mia vita Fuggi a squadra Alfa La missione non cambia Bloccate l'infezione bioterroristica E raggiungete il punto asso di picche Ricevuto Pronte ad atterrare sul lotto di fiori Raggiungeremo l'asso di picche Troveremo i lavoratori on Via Si comincia Siamo anche Fusamente equipaggiati bene È in compagnia Vediamo che armi abbiamo Pistola Figo si vede anche In un modo diverso Ricordo cambia la colorazione E anche la vita Vediamo se c'è qualcosa Ecco è fatto Merda Non farmi di questi scherzi Dio Ci sono È arrivata la BSA Chiedo scusa Potrei avere un commento sulla situazione Ma le avete avuto il cazzo Questa epidemia è legata agli eventi negli Stati Uniti La BSA è coinvolta anche in quelli Guarda questo A tutti i civili fate passare Stazione Cacosa Il percorso 4 è un misto di civili e nemici Alternative Porca troia Un pezzo di Squadra alfa Passate dal percorso 4 al percorso 9 Ditemi che non erano zombie ad aver sparato quel missile Stradicata la porta Cugia tutte le squadre Alfa va verso asso di picche Dopo il suo incontro con Delta Procederemo con l'operazione come previsto Che cazzo sta sparando? Perciò Beh almeno lui la sfonda la porta Uggia squadra bravo Andassiamo dei nemici al 4 di cuori Merda Non va bene Richiediamo assistenza immediata Recevuto Uggia Charlie Assistete bravo al 4 di cuori Stando andando stando andando Si stanno uccidendo i civili disarmati Allora ci adoreranno E' lui che devo sparare Dai Pierce Uhuh il piero Ups Quarisce da solo Oh che non si sveglia Muoversi muoversi Aspetta No c'è un cazzo lì Andiamo Voi che preferite Leon o Chris Chris è più figo Dai diciamolo Oh guarda Porca troia Oh la visola è fissa sull'elicottero Fermiamo questo macello Minchia Che casino Squadra alfa Procedete sul percorso 9 Raggiungete l'asso di picche Dal vicolo Questo stronzone ha sparato il micio Ma è morto adesso Cerco ancora di comprendere quello che vedo qui Aspettavo che fossi arruginito Sembra che il tuo attestamento Basta chiacchiere Sei pronto? Oh no cazzoni Sparate sparate Sì vabbè non è che me ne faccio molto dei punti preferire le pallottole Ho solo un caricatore Guardate Via libere Ecco Non c'è niente Qui La testa non si ricostruisce Vai E' una figata come Vola la porta Via libere Munizioni munizioni No Sì per la pistola Oh almeno la porta a lui Ma dai l'ho uccido solo sbattendolo al mulo Ah no è vivo Fortuna che si ancora con il figliolo Ho sentito uno Eccolo Eccolo Ti piace? Dimmi che sei morto sei morto Ecco a cugino possiamo respingerli Ci ritiriamo da tredi quadri Ci stanno schiacciando sono troppi Non abbiamo scelta dobbiamo ritirarci Pezzo di merda Ho preso una flash Altra cartuccia Cartuccia Sentite Sentiteli Ti manca mezza testa e continua a correre Oh guardate un bonsai Bravo Bravo Roger Tutto Tornamente Facilica Zorale Tutto 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 Cazzo, nuove mutazioni Oh, e che cacchio è quello? Che bel braccio, un braccio da sega è quello Oh no Uno è morto Era da prendere il culo No Ti piace merda? Oh, grandissimo Finito le munizioni per cavallo Oh cazzo, ce n'è un altro Quello lì non fa un cazzo, neanche spara Grande Io vorrei munizioni per il mio mitra Che me la dà? Questo che diamine sta facendo Qualcuno qua sopra Gli faccio la sorpresa Oh ma che cazzo Eh vai giù, stronzo Aspetta, fammi vedere se mi ha lasciato qualcosa di bello Ma anche no State qui e occupatevi dei feriti QG Squadra alfa a rapporto Siamo in quattro Oh Dai, dai, dai Ne sto trovando un po' Poche di munizioni Nemici In copertura No No Che cazzo Ma C'è una cosa che mi chiedo Ma come diamine li ammazzo Sono resistenti Oh, la pistola va bene Devo puttare la testa Beccato Ah, sono quegli stronzi che sparano Ah, beccato Ah, cioè si sparano addosso No Beccato Merda, ho finito i colpi Olè, ciao Ma cosa l'ho becco prima Allora, dai Oh, riferimenti Dai, di più, di più Voglio fare il pieno di pallottole Quarantatré Quarantatré Avvisco troppo In fretta le munizioni Allò Andiamo altre casse in giro C'è qualcuno qui dietro Un contatto con l'unità di ricognizione Avanzate con prudenza No, cacchio, non l'ho vista Oh, no Oh, merda Oh, merda Oh, man Stesi C'era un altro qui in giro Forse l'ho fatto secco Ah, 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 ah Devo risparmiare colpi Tra l'altro No, no Neanche spray Non ho un cazzo Non l'ho manco notato Non ho trovato ancora erbe Un miracolo Che non ho visto Oh, cribbio Uomo a terra Bravo, amici Siamo ancora in ballo con gli ostili A quadro del cuore Con la squadra a farli Hanno subito gravi perdite Sì, anche noi Medici in arrivo Altro Erbettina No Recalico la pistola No Ma porca troia Non l'ho visto un cazzo No Eh, vaffanculo Devo assolutamente trovare un'erbetta Qualcosa Solo punti abilità Trovo Ah, ciao, bello Oh, no In mezzo alle biglie Altro non c'è niente Aspetta, mi sto rincogliendo male Ok, di qui Vai Sfonda Ah, no Apriamo normalmente Senti, ma tu non puoi curarmi C'è, guarda Oh, sono un'erbetta Non l'avevo notato L'avevo già Signore, sta bene? Ciao Sta bene signore Le manca mezza testa Ok, non mi lascia niente Neanche un ricordino Fuggì a squadra alfa Quell'edificio più avanti È l'asso di picche Lo staff delle Nazioni Unite In ostaggio È lì dentro Procedete con l'estrazione Cazzo ora No, minca Palle Cos'è la pistola Ah, non c'è niente Scendo giù Ragazzi, si è trovato Rifornimenti Eccolo là No, no Andiamo, andiamo Evitiamoli Si fottano Per ora Oh, quante punizioni Ah Oh, merda Ma scherzi Che cazzo è sta cosa? La farfallina La farfallina Beh, ricordi di Resident Evil 5 Charlie a QG Siamo radunati Aspettiamo ordini Le cose non vanno bene Al 3 di quadri C'è bisogno di voi lì Ricevuto No Che cazzo Aspetta Ma dai Ecco Non bisogna colpirli al braccio Ma alla testa Oh Che cazzo è successo? Il mio amicone è pierce Dove cacchio è? Si, io uno le spalle Lo so No, non ce l'ho le spalle Oh, no Oh, no, no, no Che schifo Cazzo ha vinto le pallote Ma che cazzo Voglio E sparì pure Via libera Eh, via libera Senza Sono proletti In canna quasi Un mezzo caricatore sputato Adesso ho un caricatore sputato Aspetta un attimo Eh, infatti l'avevo vista sta cosa Ma Eh, no, non è che ce l'ho Non che ci provo Spreco pallotto Il giorno ne ho Capitano Ho un cacchio di Di missile Dai, 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 dai La memoria muscolare Mi ha salvato Ehi, Pearson Mi sparo da un dosso Ti ho salvato le chiappe Ti va di restituire il favore Dai Mi stanno crivellando Para quell'altro, ecco Ho bisogno di una mano Tornate subito da me Chiederemo rinforzi al QG via radio Voi due andate al lasso di picche Roger Roger No Ti aprirò in due No Mori, mori Mori Bravo No Ci provare Ti è piaciuto? Oh no Dai, che pizzo Ale Forse è meglio prenderti a calci nel culo Oh, questo non vuol giuare No, no, no Anche lui Dopo un po' si stanca Qui Non ho ben capito dove siamo Forse in China Sento qualcuno QG, bravo Alpha deve spostarsi sul lasso di picche Date una mano E lì sopra Ricevuto Assistenza in arrivo dal 4 di cuori Oh Munizioni no Fanculizzatevi Oh, una piantina, amica Finalmente Guardate Oh, Cristo Volano, volano, volano Dai Non rompe le piglie Krishna, Krishna Eh, cadi però Dai, dammi un pallottole Ah C'è mancanza di pallottole Cagato Vai, l'asso di picca Ciao, Pierce No Non torno indietro, dai Vai, facciamo volare sta porta No, non è volata Sì, ci siamo quasi Senza neanche Punizioni Oh, merda Bravo, QG Siamo a sottoporto pesante qui No, no, no Che cacchio faccio Wow, che mira Dammi qualcosa Ecco Tutto è cose parecchio inutili adesso Si sfuoca, avete notato? Si sfuoca lo sfondo Ecco Adesso che fai? Ecco Fai vedere la faccina Ancora? Minchia Finalmente Oh Ti sto per sparare, Pierce Dannazio a te Cioè Con Leon Trovevamo Pallottole Proprio a calci in culo Qui invece no Qui facciamo la fame Dovevo stringere le chiappe Allora Sfondiamo Sfondiamo a sta bella povertà Sono barili esplosivi un po' ovunque ma Cris a QG Siamo al lasso di picche Ricevuto La squadra bravo parteciperà alle operazioni di soccorso Attendete istruzioni Bene Mi serviva una pausa Merda Oh no Ci hanno visto Sopra di noi Oh no Ma che palle Ecco perché sono Sono barili Sfondiamo 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 fiori che la situazione tragica il sito colpendo dai 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 ne arrivò già mutati merda no cazzone ah no questi coglioni ancora qui hai rotto le balle ma quanti ne dobbiamo ammazzare quei maledetti rinforzi no oh merda gesù guardate sono troppo no cazzo non ora no no dai eeeh ah ah fianco a voi e viene da me ma non rompermi le balle che gesù ok finita la pallotto tu cosa mi hai dato bello? niente aspettate aspettate oh sono più carico tutte le armi bio organiche eliminate squadra alfa aiutate la squadra bravo a portare via i civili oh vengo con i rinforzi ma non ci portano munizioni gesù maria spero di trovarne più avanti magari così a livello iniziale dobbiamo stringere le chiappe cercare di sopravvivere però dai anche se anche se non ci sono munizioni diciamo che è meglio mi costringo a mirare meglio e a puntare la testa ok non sento perchè non li sento parlare c'erano solo i sottotitoli ma non li ho sentiti parlare ok ok allora devo salvare gli ostaggi che sono troppi mi sfono tutti attacchi in culo ah prima prendo tutte le munizioni che trovo uh bravo ma se lo farà a me adesso ok l'と思います qualcun altro da tutta parte non ne ho ciao testa forse meglio ammazzarli così almeno evitiamo trasformazioni e beh lasciatelo correre verso di me tanto almeno un nemico dammi qualcosa poi come muore sembra la miccia di una dinamite guardate vediamo se c'è altro da raccogliere io dovrò non perderci niente non credo oh aspetta possiamo salire su no stavo già emozionando e scendere ancora più giù si oh oh beh vengo qui solo per questo cazzarola ma è normale che possa andare qui oh minimo è tipo per far trovare più rifornimenti e roba del genere ecco infatti peccato che sono solo punti abilità e basta ci pulisco il culo con i punti abilità oh granata cercante c'è di buono che ho le granate eh comunque ne ho due a frammentazione che non le ho ancora usate e non le utilizzerò oh 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 ma vaffanculo puliamoci il culo con duemila punti abilità la squadra ci aspetta questo piano che vuoi fare l'eroe sta andando prima tutto di me sempre ammazzalo a mazzalo ammazzalo ammazzalo ma bastardo la forza enorme di chris alzato di poso lanciato incazzatissimo chris granata cazzo ma che ma che ma che cacchio è ma che sono scorpioni tipo ma che lui li prende di po' ma che si picchia la vicenda oh forza no pensavo fossi morto figliolo fuggia ad alfa gli ostaggi sono proprio davanti a voi eliminate gli vicini dentro e tirate fuori quella gente aspetta un cento tre pallote pronti e salviamole che c'è molto venti oh merda ma scherzi no ma che cacchio sei svegliata con l'ostaggio dammi l'ostaggio verdoso beccato e uno è andato oh stai bene alfa QG ostaggio del settimo piano salvo forza va via dove al piano di sopra dovete fare in fretta no no ma che cazzo ragno di merda spara spara ragni di troppo cresciuti ma hai visto niente di più orribilante dopo 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 ora qui eccolo 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 eh 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 ci manca l'altro dove l'ostaggio eccolo 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 ah eh eh dove no cacchio ma mancato mancato co vero eh aspetta eh no no non ci credo c'è ancora quello lì a spasso ostaggio forse arriva da questa qualcuno mi ha aiutato minchia dai me non ci credo non riesco a bloccarlo minchia l'ho beccato dai ah beccato anche l'ultimo stagio portalo via che c'è ah no è un altro al primo piano ancora un altro Pierce non è che avresti munizioni per il tuo capitano è detto al primo piano questo shannon forse è qui se si è qui deve essere qui dai Pierce salviamo gli ostaggi però è una comica l'ostaggio sopra è uno scorpione che tipo corre ahahah ahahah tutti gli ostaggi al quindicesimo piano sono salvi sto uscendo ora ok restiamo solo noi ah oh merda si è fermato e ora? e ora ci seguiamo a vicenda cosa vuoi fare? ah c'è sempre la botola dal soffitto se mi aiuti c'è sempre la botola dal soffitto nel soffitto è un classico vai aiuto ci sono no 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 come è ovvio amiche è tutto in rovina che cazzo utilizzi aspetta che cosa utilizzi gli ascensori ok ma porca di una troia spray medico uso la pistola però ma scherzi si io pensavo fosse solo un tiro e basta cioè pensavo avesse sparato solo un colpo e se ne fosse andato via non pensavo fosse ancora vivo credevo fosse proprio ancora vivo ma alla fine della barca cosa succede? muoio? oh ottimo no cazzo stavo per buttare ok come io devo saltare ah devo aprire oh no mitragliatore pesante mi stanno evolvendo eh credo che non siamo i benvenuti qui possiamo batterli si lo credo anch'io ciao brandelli seguimi aspetta oh no sono incattati di più scorpione dei miei coglioni dai 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 faccio la piazza pulita tu sei solo vedo vedo sei solo ma sono fitto amici ahahahah è fighissimo è fighissimo come gli si sbatte la faccia ah adesso vedete just vi sistemo io per la testa oh barda no non vi sistemo più partito il ragno chiama oh che coglione aspetta un attimo no ma dataci no guardateci no ah che palle pensavo di poterci andare dopo Dai, 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 altri qui, dai, ho due caricatori a mezzo lì, ho Qui in Delta 1, sono fuori da lì di Kitchen Qui in QG, ricevuto Aspettate Sì, sesso, tanto sesso, che rumore E muori, merda Falta con la trasformazione Vai Cazzo Dove andiamo? Ah, devono bombardare Pierce, porta in spalla l'ostaggio Aspettate, aspettate No QG, vi ricevete? L'ostaggi sono salvi Squadra Alpha, fuori Ricevuto Via al bombattamento Come? La siamo in trappola Ora cosa facciamo? Eh Io sto camminando invece di correre QG Alpha Vedete, non fa sentire l'audio E ci tengo a sottolineare che Il gioco è originale Ed è la comprata su Steam Eh, speriamo Come? Dicevi? Inizia il bombardamento Non gli importa dove siamo Niente di personale Questo edificio non reggerà Questo posto Dov'ero? Presto Aspettate Bisogna Non c'è tempo per le pallotole Oh, giary Eeeh No, no, no E lui è lì per niente Per guardarmi Sono in posa Avete avuto culo figlioli E' dubito che ci sia qualcosa in mezzo alle macerie Oh missione perfetta eh Nostaggi salvati Oh merda La mutazione è ancora viva a quanto pare Capitano Sai che cacchio è successo? Fin Capitolo 1 Votto A Precisano il 58% Allora vediamo come spenderli Eh minchia ne posso portare più di una? Anche se queste mi vanno bene No mi sa che mi tengo queste Perché devo cambiarle? Corazza Scippatore Mi tengo queste Allora aspetta un attimo Ehm Vediamo questo qua c'è Dagli ultimi partiamo magari sbloccato No frecce Chi ha le frecce? Scorta no 95.000 punti Ma voi state male? Tre blocchi no 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 Mi fan cagare ste cose Ma non ferma Solo se siete merdate No no Metto Scippatore Magari c'è la Così almeno Ammazzando qualcuno C'è la possibilità che Molli qualcosa Anziché il nulla Ammazzando qualcuno Era un attimo Un attimo Mi Mi Mi